allora oggi ho iniziato a fare i lavori per prima cosa dobbiamo recintare tutto questa zona per andare a fare un bel pollaio con l'aiuto per prima cosa con l'aiuto di uno scavatore ho fatto questa traccia e ho livellato un po la parte in basso adesso sto posizionando i sassi sassi che qua ce ne sono una miriade li ho posizionati con l'aiuto di un filo e di un paletto qua è stato tirato un filo che va fino là e qui fino là praticamente faccio questo muro perché prima di tutto non era la strada al di sopra non era livello con il sotto e per fare la recinzione faccio un po di di fatica voglio fare una cosa fatta bene solo una volta perché qua sulla strada ci passo anche con mezzi un po pesanti quindi se opto per un muro secco molto probabilmente con gli anni e col tempo va a cedere il muretto allora abbiamo fatto primo strato di sassi abbiamo messo uno strato di cemento con all'interno la rete elettosaldata per rinforzare il tutto e ci abbiamo appoggiato sul cemento fresco il secondo strato di sassi dobbiamo portare l'altezza del muretto alla stessa altezza della strada più o meno qui saranno due file di sassi e qua e qua un po di più se non due o tre niente vorrei fare un timelapse ma non ho la telecamera che funziona perché mi si è rotta quindi vi aggiorno la giornata è terminata e sono arrivato a questo punto ho quasi finito il muro mi manca ancora una fila lì e due tre sassi qua sopra io ho finito intanto è venuto giù un freddo che non vi dico dopo probabilmente stuccherò le fughe dei sassi con del cemento più fine adesso probabilmente adesso lo lascio così questo è il risultato alla fine quando ho dovuto mettere due sassi ne ha bastato uno grosso uno due tre grossi che non vi dico che fatico ho fatto a metterli su mi sono dato un po una mano con lo scavatore ma a portarlo lì vicino dopo per metterlo sopra ho dovuto fare tutto a mano e niente manca solo quel pezzo qua domani o quando il tempo ce lo permette proseguiamo questo qua il piccolo recinto esterno delle nostre galline ovaiole e oggi lo vado a smontare perché era una cosa provvisoria finalmente la neve si è sciolta finalmente ho rimosso il pollaio e spianato il terreno è uscito molto bello mi ha dato un po di pendenza verso sinistra perché vi ricordo che l'acqua deve anche andare giù da qualche parte perché sennò si forma un fango quando piove